per la tua santa croce per sangue che hai peso per noi e per la forza sante piaghe ti preghiamo con umiltà col cuore guarisce nostra anima nostro spirito l'equipa nostro portale è usato per la posizione di Međugorje come vedete siamo nel borgio di Sveto Jako da l'anno scorso di Poneglia in 21.30 minuta è stato un incidente in la sua casa di Vicka Ivanković Tamo si è in un postorio nalazzo Kip Blažene Dijevice Marije, stario da le miei rappresentanti in Međugorje. Kip che si è in un po' di navodini che diceva che è in un po' di nozione, un kip che è in un po' di nozione, e con cui si è in un po' di nozione, che si è in un po' di nozione, quando è in un po' di nozione, quindi anche in un po' di nozione e in un po' di nozione. Rieke podoccasnika, che è in Hercegovine, che è in un po' di nozione e in un po' di nozione, a il motivo è in un po' di nozione, sono i nuovi passaggi che ci sono già conosciuti. Per questo è anche la nostra equipe qui in Međugorje, e ora andiamo a vedere la vicenda di Vicka, per vedere cosa si è in un po' di nozione. e ora andiamo a vedere la vicenda di Vicka, un po' di nozione, è 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 un po' di nozione, la vicenda di Vicka non si è o 15 cicatr Non riempiono il cibo, si no c'è nessuno in questi anni. Mi ha mai detto in Hercegovina che non ha capito, Vakia non lo ha fatto, il fatto di fare la loro catastrofe, se la gente non lo ha fatto, non riesce a aiuto. E le diretti a tutti i modificati, come si può fare la nostra storia. Il Cattolo dice che è stato un po' di connessione, che è stato un po' di connessione, perché è stato un po' di connessione, ma il Cattolo dice che è stato un po' di connessione, Pagani con chi non vedevano a vivere. Oggi vuoi che arrivano a capire che a un'esercizio di chineria è qui, C'è una cosa che l'ho lasciato, perché non c'è il passano di là, ma non c'è una cosa di avere un certo. Se ti ritornano, non c'è mai prima di andare, perché la città non è sufficiente. La città è la luce, la città è la luce, c'è la loro vita, la loro vita davanti, non c'è la loro vita e la loro vita. Qu'è un po' di noi che ciò che ciò che di Boga? Siamo noi, credi, a più che ciò che ciò che ciò di Boga, e perché ciò che ciò di capire, che la creazione di l'Iubomore non ciò che ciò che ciò di Boga. Grazie. Ave Maria, Danta Magano, Madre Signore il Vosso Gran, che grazie sempre e pregare astrazzi e averti, e adeguare la nostra morte e amore. Gloria a Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in delazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, viena di grazia, signore con te, tu sei benedetto, frale donna. Ave Maria, viena di grazia, signore con te, tu sei benedetto, frale donna, frale donna, frale donna, frale donna. ... ... ... ... per cui vi spiegare il testo e che vedi. Io sono io in un'arte, io ho apprezzato il primo attore, io ho un anno. Perciò, io sono andato in una volta in un'arte, io ho avuto in un'arte. E ho avuto la mia niente, mi ha detto che mi sono andato in un'arte. E io sono andato, io sono andato a mettere gli occhi e i l'arri. L'acqua, una sola suda, sopra, vediamo la cagliacca e i vediamo la zona di un calico. Sperai, mi sono, mi senti che sono, mi senti che sono. Sperai, mi senti che sono stato fissuto e allora sono stato fissuto. Sperai, mi senti che fosse fissuto. Sperai, mi senti che sono stato fissuto e poi siamo fissuti. Mi senti che sono stato fissuto il tempo di più, c'è un' parte di scelta, il tempo che si era un po' di scelta, cosa che sei, ho visto l'esitore di fotografia. Quando mi ha fatto un film, quando mi ha fatto un film, e si andrà, guarda qui si è stato fatto vedo il video, dopo 10-15 minuti, qua il mondo è stato fatto anche 1000 o 2000 giorni. Donde si è stato il contrario. Sono stato il suo 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 gioco. Ci sono stati fotografi, che sono stati con lo visto, e che stanno a fare con lo andro. è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa. Sì, è venuto un uomo con il suo gruppo di amici, uno di loro era un muslimo. E' venuto qui, non è venuto, non è venuto. Quando è venuto, non è venuto, non è venuto. Non è venuto, non è venuto, non è venuto. Non è venuto, non è venuto, non è venuto. Nel secondo, come vi sono l'obcinate, è venuto? No, mi sogarò si qui, un'esercita di dormire. Hai sensato da dormire, potrei do tre un'esercita di dormire, in questo tempo. È venuto di dormire da dormire, l'estero perché? Non è venuto per dormire no 5 am. Ma vieni da dormire, quando è venuto in 3 ore. Ma sono andati in 3 ore. e la gente è piena di vivere, la gente è piena di vivere, la gente è piena di vivere. Grazie a te. Grazie a te. Ecco qui, in un'associazione, un po' di casa, qui è un po' di vivere, dove si trova un gioco. Qu'è la mia vita? E con i nostri ho trovato un'amica di una cosa. Sono stati presso un'amica di loro, ma sono stati notici un'amica di loro. Quando mi hanno detto che non piacciono, hanno dico anche l'amica di loro. Quando ho visto che sia il suo motivo di ogni tanto, Cosa dice? Cos'è Usedo? Cosa suoni? S'era il pieno di matrimonio... Vai stare qui a casa, iced? No c'è che la sua vita... Non nega cosa stai lasciando... Mentre tu sono venuto, che i dei famicoli sono anche per il primo giorno Thoughzo nel primo giorno... questi sono i due due giorni di entrerse da il rio Sonoma Sono venuti qui e sono venuti qui e sono venuti, tutti sono venuti, non è vero. C'è un'esplice per i nostri amici, per i nostri amici, per i nostri amici. Noi non possono credere, non vedono i nostri amici e non sentono i nostri amici. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amén. Monsignor, per il mio amico, mi ha detto che questa è la mia casa, suon, non sa che un signore Anto Veri, non sa cosa ne spolugo, avevo un po' c'è, perché a avevo un po' c'è, l'inui che c'è, l'inui che... Ano e l'inui, l'inui che è un po' c'è, l'inui che scopo fate. Cos'è, la c'è un po' c'è, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Sevo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccaroli. Adesso. Grazie a tutti.